benvenuti in cimitero oggi puntata putrefatta marcia e se non vi piace il death metal andate via Grazie per la visione NECROT 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 Questi sono relativamente nuovi, me li ha passati il buon Giuliano Antonio Cotechino Conte di Misurata e Alvarez della Vega Figlio di Pdor della tribù di Star Gli concede questo waltzer? Un, due, tre, un, due, tre Sembrano un po' Morgoth, no? Ah, non c'è Un, due, tre, un, due, tre Un, due, tre, un, due, tre Ma passiamo alla prossima tomba Queste anime in pena sono i Throws of Dawn Un, due, tre, un, due, tre 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 Fuowai Due, tre Ca resurrection Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Diciamo che io ho sempre lavorato perché mi sono sempre adattato a tutte le cose che trovassi Ho anche prestato servizio in obitorio per un tre anni e una delle domande che mi fanno più spesso è mai mai visto un orto muoversi? Volete la verità? Uno l'ho sentito scoreggiare ripetutamente mentre vestivo il suo vicino di letto Ciao! Il mio lavandino quando lo sgorgo fa questo rumore qua Ciao! 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 Questa è una cover scontatissima dei Nasum vista la loro passione pubblica per i Carcas e ci avviamo alla chiusura con i Race by Aos che l'altra volta ci hanno rapiti senza permetterci di concludere degnamente la puntata Questa canzone parla di David Dickinson che è una specie di televenditore un po' come il nostro Alessandro Orlando Quindi salutiamo i Race by Aos, salutiamo David Dickinson, salutiamo Alessandro Orlando, salutiamo tutti! Ciao!